sul castello di Cesena ma che sul castello? dici qual è la tua sensazione stiamo per iniziare, siamo a Cesena esatto, siamo a Cesena e io ripasso la bocca sul castello di Cesena batte il sole a mezzogiorno davvero un pesadio appena con il sole di torno, mormorendo per la tricoverte il sole di salio e diretti durito, vecchio Cristo al bagno sta ciao, buio mi ricompagno arriva, arriva e qua non è che c'è il pulsante eccolo